Rigidità e apertura all'amore di Dio. Papa Francesco ha riflettuto su questi due aspetti nell'Omelia della Messa a Casa Santa Marta, prendendo spunto dal Salmo 103, il canto di Lode che recita «Se tanto grande, Signore, Dio mio». È l'amore che portò il Signore a creare il mondo per condividere la sua pienezza, detto il Papa, per dare, e lo stesso accadde quando mandò Gesù il dono. Francesco ha ricordato lo scandalo che sentirono i dottori della legge di fronte alla paura della libertà che Dio ci dà. Avevano paura dell'amore, aggiunto, per questo avevano cercato rifugio nella rigidità dei comandamenti. Solo il dono e la libertà rendono la preghiera, affermato, un canto di Lode, di gioia, ci dà l'allegria della vita cristiana, non la preghiera triste della persona che mai sa ricevere il dono. Schiavi del dovere, ha proseguito il Papa, ma non dell'amore. Quando tu diventi schiavo dell'amore, sei libero. Come ricevo io la redenzione, il perdono che Dio mi ha dato? di farne figlio col suo figlio, con amore, con tenerezza, con libertà? O mi nascondo nella rigidità dei comandamenti chiusi, che sempre, sempre sono più sicuri, fra virgolette, ma non ti danno gioia perché non ti fanno libero. Ognuno di noi può domandarsi come vive queste due meraviglie. La meraviglia della creazione e l'ancora più meraviglia della ricreazione. E che il Signore ci faccia capire questa cosa grande e ci faccia capire quello che Lui faceva prima di creare il mondo. Amava. Ci faccia capire il suo amore verso di noi. E noi possiamo dire, come abbiamo detto oggi, sei tanto grande, Signore. Grazie, grazie. Andiamo avanti così.